Il Presidente della Repubblica Mattarella nell'aprire i lavori del Consiglio Supremo di Difesa ha espresso soddisfazione per il grande successo dello Stato con l'arresto di Matteo Messina Denaro e ha rinnovato le congratulazioni e la riconoscenza al Ministro dell'Interno, all'Arma dei Carabinieri e a tutte le forze dell'Ordine e alla Magistratura.